Buongiorno da Edo e bentornati in questo podcast di News Tech e anche oggi andiamo a sviscerare qualche news frizzantina e croccantina e in particolare oggi non si può prescindere dal parlare del Microsoft Build l'evento annuale dedicato agli sviluppatori in cui Microsoft appunto va a elencare alcune delle novità che presenterà in Windows e nei suoi software nei prossimi mesi dal tasto a stretto giro perché le novità che ci sono viste sono tutte in rilascio abbastanza a breve insomma quantomeno in preview quindi siccome non avevo voglia di starmi a scrivere le cose più importanti vado a prendere il tutto da un articolo di The Verge che va a elencare le 5 notizie 5 annunci più grandi, più importanti presi dal Microsoft Build naturalmente i 5 più importanti secondo The Verge ma anche secondo me perché non ho voglia di fare io questo lavoro quindi i 5 annunci naturalmente questa manifestazione, questo evento è pregno di AI l'AI regna sovrana dappertutto, c'è AI infilata un po' dappertutto ma è anche scontato visto gli ingenti investimenti di Microsoft nell'AI e soprattutto in OpenAI e quindi il primo annuncio importante è che verrà inserito nelle prossime versioni preview di Windows 11 Copilot, un Copilot, un AI Copilot che sarà appunto un assistente personale come viene scritto appunto, chiamato Copilot che richiama proprio il Copilot in GitHub che però viene usato soltanto per scrivere codice in realtà invece questo Copilot serve proprio per assistere alle operazioni di Windows ed è poi un software che già viene integrato con lo stesso nome in Edge e Office oltre appunto al già citato GitHub e quindi nella taskbar di Windows 11 prossimamente potremo aprire questa Copilot e chiedergli cose, quindi fare appunto degli riassunti, spiegare del testo oppure spiegare come si fa ad andare a sistemare dei settings del PC e quindi questa feature sarà rilasciata con la prossima preview di Windows 11 noi utenti base e normali arriverà con un futuro update tra l'altro qui viene citato anche che nel prossimo update di Windows 11 arriverà anche il supporto a Bluetooth Low Energy si cita anche, una cosa che interesserà a pochi entusiasti del gaming verranno integrati in Windows 11 anche i controlli per i software RGB quindi se avete il case con dentro i giochini delle lucine RGB sulle memorie o sulle ventole o sui dissipatori ecco avrete un software in Windows 11 che vi permetterà di comandarle e configurarle che si integrerà direttamente va bene, poi parliamo invece di Microsoft 365 Copilot che ancora una volta è l'assistente AI che è stato inserito dentro alla suite di 365 ebbene arriveranno i plugins che è una cosa che forse avete già sentito quando si è parlato di ChatGPT Plus ecco infatti i plugins saranno sostanzialmente la stessa cosa quindi ci sarà il marketplace di plugin da aggiungere a 365 e si potranno mettere cose come un'estensione per Teams o connettori ad altre cose, power platform e bla 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 e poi ci saranno anche ovviamente quei terze parti come Atlassian, Adobe e visto che vengono in mente i plugins di ChatGPT Plus beh a quanto pare, anzi a quanto annunciato da Microsoft l'interfaccia per i plugins è esattamente la stessa cioè il formato dei plugins è esattamente lo stesso sia per Copilot che per ChatGPT Plus quindi diciamo che le due cose iniziano ad assomigliarsi un po' troppo, un po' tanto e fondamentalmente si capisce che alla base c'è lo stesso software probabilmente anche la stessa infrastruttura e chissà se in futuro questo porterà a un merge delle due cose per il momento sono due entità separate però i plugins vivono e possono essere integrati allo stesso modo in entrambi gli ecosistemi poi viene annunciata quindi l'integrazione di 365 Copilot dentro Edge quindi nel browser di Microsoft verrà integrata una taskbar con dentro 365 Copilot che fondamentalmente è una specie di chatbot anche qui molto simile a quella di Bing in cui è possibile chiedere aiuti o di eseguire operazioni e però si integra con il contenuto della pagina che si sta visualizzando in quel momento quindi per esempio è possibile chiedere informazioni proprio sulla pagina o usare le informazioni della pagina per creare nuovi dati, nuovi progetti per esempio chiedere un sommario oppure di trasformare il contenuto in un oggetto nella suite 365 oppure anche appunto compilare una mail o un foglio Excel ecco questo è il genere di cose che Microsoft ha in mente per questo tool in Edge e naturalmente anche questo sarà integrabile con i plugin di 365 Copilot andiamo ora a Windows Terminal e anche qui c'è un'integrazione AI in Windows Terminal sapete che Windows Terminal è il terminale che Microsoft ha sviluppato per le nuove versioni di Windows benissimo anche qui verrà inserito Copilot che è il Copilot di GitHub quindi GitHub Copilot quindi per usarlo serve un account GitHub Copilot quelli account insomma a pagamento per GitHub Copilot quindi una volta attivata questa integrazione sarà possibile interagire con GitHub Copilot direttamente dal terminale di Windows e tra l'altro Microsoft dice che questa integrazione sarà portata ci sarà un esperimento per portarlo anche in altri tool di sviluppo come WinDBG e infine Bing sarà il motore di ricerca di default per ChatGPT sapete che nella versione plus di ChatGPT appunto il chatbot può navigare in internet può andare a pescare informazioni e presentare informazioni all'utente da internet bene il motore di ricerca di default di ChatGPT sarà Bing e quindi i risultati delle query, delle richieste, dei prompt a ChatGPT saranno corredati dai link, dalle fonti presentate nel formato di Bing perché sono state appunto presentate da Bing esattamente come avviene con il chatbot stesso di Bing e anche qui c'è quindi una convergenza abbastanza indicativa dei due sistemi da una parte ChatGPT Plus e dall'altra Bing la differenza è che Bing è gratuito almeno per chi è su Windows con Edge oppure come app mobile mentre ChatGPT Plus va pagato naturalmente probabilmente c'è una differenza di modello ancora perché ChatGPT Plus sapete che utilizza gli ultimi modelli di OpenAI quindi GPT 4 mentre non si sa ancora bene qual è il modello utilizzato da Bing però probabilmente le due cose sono abbastanza simili insomma si va anche qui a mio parere verso una convergenza di questi due sistemi ma vedremo insomma in futuro cosa succederà quindi queste erano un po' le 5 news più frizzanti e croccanti che vengono dal Microsoft Build annuale vorrei chiudere questa puntatona del buongiornone con due news che sono secondo me frizzantine e che messe insieme sono proprio effervescenti lo danno quella scarica che piace tanto per vedere la schiumina e sono entrambe news che riguardano delle leggi degli interventi degli stati comunque dell'amministrazione pubblica verso soggetti privati però vanno in due direzioni stranamente opposte cioè una verso gli Stati Uniti e una dagli Stati Uniti la prima è quella che la Commissione Europea ha combinato una multa a meta una multa a record per 1,2 miliardi di euro per aver trasferito illegalmente dati dei cittadini europei negli Stati Uniti sapete che qualche anno fa era in vigore una legge un patto, un accordo tra Europa e Stati Uniti che si chiamava Privacy Shield che però nel 2020 è stata dichiarata di fatto non valida perché violava il GDPR sostanzialmente ma nel frattempo meta pur sapendo che c'erano queste violazioni ha comunque continuato a trasferire dati degli utenti pensando che essendoci comunque in vigore un patto almeno questo è quello che dice meta questi trasferimenti fossero in realtà permessi, legali mentre la Commissione in realtà tutta un'indagine partita dalla Commissione Irlandese per la protezione dei dati ha appunto deciso di condannare meta perché questo fatto, queste violazioni sono state reiterate, ripetute e molto corpose se si parla naturalmente di milioni di utenti quindi una partita di dati pazzesca questa è quindi la direzione in cui si sta muovendo la Commissione Europea di multare e anche di sospendere il trasferimento dei dati da Europa e Stati Uniti gli ha dato un periodo di grazia di 5 mesi quindi a ottobre c'è la scadenza di questo periodo e meta se non si sarà conformata alle leggi in vigore dovrà sospendere del tutto il trasferimento dei dati oltre naturalmente a pagare questa multa meta dal canto suo spera che i nuovi accordi tra Europa e Stati Uniti entreranno in vigore prima di questa scadenza c'è appunto in discussione un nuovo patto un nuovo accordo oppure che l'ordine esecutivo di Biden dello scorso novembre che anche qui va verso degli accordi per consentire il trasferimento dei dati entri in vigore appunto prima e quindi possa in qualche modo svangarla però i quali esperti dicono che non sarà così facile questa volta per meta quantomeno evitare la mega multa l'altra cosa che ha fatto pensare che ci fosse una specie di connessione tra queste due è invece la vicenda del Montana che vuole bloccare TikTok perché lo Stato del Montana ovviamente è uno Stato degli Stati Uniti vuole bloccare TikTok perché dice appunto che è dannosa per i propri cittadini soprattutto per le ingerenze nella privacy dei propri cittadini quindi nella sicurezza dello Stato tra l'altro dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio dell'anno prossimo ebbene TikTok si è appellato ha intentato una causa contro lo Stato perché appunto dice questa roba qua è incostituzionale quindi la società cinese ByteDance che è quella che possiede TikTok vuole bloccare questa decisione che il Montana ha preso a suo dire per proteggere i dati dei propri cittadini quindi vedete il parallelismo tra queste due news da una parte la Commissione Europea che vuole impedire che i dati dei cittadini europei siano trasferiti negli Stati Uniti perché dice negli Stati Uniti ci sono delle leggi troppo permissive nell'entrare nella vita nella privacy dei cittadini quindi io che voglio proteggere i miei non voglio che i dati finiscano proprio lì in territorio americano dove non sono non sono protetti dalle stesse leggi che abbiamo noi dall'altra parte invece uno Stato americano si rivolge a una società cinese dicendo non vogliamo che voi possiate trattare i dati dei nostri cittadini perché noi riteniamo che qui siano protetti al sicuro mentre non riteniamo che voi applichiate le stesse norme le stesse protezioni quindi vediamo uno scontro tra visioni diverse della protezione dei dati personali che io ho trovato abbastanza interessante quindi torniamo al mio faccione io vi ringrazio per aver seguito fino a qui anche questa puntata piena di notizie piena di cose molto abbraccio spero che questo formato possa piacere che non vengono la puntata troppo lunga troppo noiosa vi do appuntamento naturalmente a un prossimo episodio mi scuso per aver detto una bugia perché in realtà lunedì avevo promesso un episodio di Continuous Delivery per ieri che poi in realtà non si è fatto non c'è stato per questioni contingenti non abbiamo potuto farlo quindi mi dispiace di aver mentito e quindi mi scuso per il mancato podcastone di Continuous Delivery che comunque tornerà tornerà sicuramente alla prossima volta quindi non disperate ma nel frattempo gustatevi questa puntata che spero vi possa piacere e noi ci rivediamo a un prossimo episodio ciao